Ursa sta andando molto bene dal punto di vista di mercato noi siamo molto contenti stiamo facendo diciamo delle performance in linea con quelle che erano le nostre aspettative in alcuni casi un particolar modo per il prodotto che vedete alle mie spalle quindi il prodotto Ursa XPS anche al di sopra delle aspettative crediamo che l'energia diciamo la fonte di energia più rinnovabili in assoluto sia l'energia che noi riusciamo a risparmiare e noi vendendo e producendo materiali isolanti vogliamo contribuire in maniera importante a questo saving quindi a questo risparmio di energia. Grazie a tutti quanti per aver visitato lo stand Ursa a Madexpo e grazie a tutti per la fiducia che ci state accortando ormai da anni.